Come si dice nel campo definirmi come rossa? Ecco quindi anche perché devo dire in tutte queste polemiche dei campi un campo è rimasto quello della sinistra invece io il campo a cui credo meno devo dire ma io intanto devo dirvi subito che sono molto contento anche se sapevo perfettamente che non avremmo suscitato la partecipazione delle masse di avere dato il mio contributo per le manifestazioni del 16. Devo dire in particolare per quella che ne accennava adesso Luca Scacchi di Milano perché a Milano è stata una piccola rottura del ghiaccio dopo il disastro del primo maggio è stata la prima manifestazione che si è fatta a Milano dopo quella del primo maggio. Credo che abbiamo fatto bene a farla mi dispiace che la vostra organizzazione non fosse presente potrei liquidare la discussione sul campismo dicendo che abbiamo ricevuto contemporaneamente diciamo la critica della vostra organizzazione che diciamo accusava di ambiguità filo Putin e quelle di alcuni settori del partito comunista d'Italia di Giulietto Chiese e di altri che accusavano la manifestazione di essere ambigua perché anti Putin. Quindi direi potrei risolverla così ma capisco che la discussione è più di fondo quindi dico subito che sono convinto che abbiamo fatto bene a farla mi dispiace che voi non ci foste. Penso che è stata l'unica cosa che c'è stata fino adesso e quindi è importante averla fatta. Dopo 25 anni di guerra mentre si prepara nuovi interventi militari è l'unica cosa che c'è stata in Italia. E sono d'accordo con le considerazioni che qui finora sono state fatte sul fatto che ogni paragone con i periodi del passato come si dice è destituito di fondamento. Siamo dentro una crisi economica, una guerra, una spinta drammatica alla chiusura democratica del paese, tutto si tiene. Siamo di fronte a un'opera di passivizzazione culturale e politica che ha ottenuto quello che voleva ottenere. Siamo alla depressione politica dell'Europa, siamo a una crisi mondiale che vede molte cose compresa anche una controffensiva brutale dell'imperialismo americano. Non dimentichiamo quello che sta succedendo in America Latina dove già un paio di paesi sono saltati o stanno saltando dal fronte. Comunque si voglia giudicare positivi, comunque si voglia giudicare quei governi, le critiche che si vogliono fare. Comunque un fronte che ha aperto una crisi per un periodo nel sistema imperialista. Io credo che pensare che oggi appunto si riproponga la possibilità di avere la mobilitazione di massa che c'è stata all'inizio degli anni 2000 quando il New York Times scrisse, se vi ricordate, che il movimento pacifista mondiale era l'altra grande potenza del mondo. Però quell'altra grande potenza è stata sconfitta. Questa è la verità. È stata sconfitta, non ce l'ha fatta. Ha perso brutalmente. Molte delle forze che hanno organizzato quei movimenti e quelle lotte, non parlo di noi militanti, diciamo così, delle varie anime, delle varie diaspore comuniste, ma gran parte dei militanti democratici, progressisti, pacifisti che hanno organizzato quei movimenti o si sono venduti o sono diventati figli dei fiori che si occupano dell'orto, dell'ecologia, dell'ambiente, eccetera. Quella dimensione politica, la dimensione politica no global dei primi anni 2000 è saltata, non c'è più. E inseguirla mi pare un grave errore di nostalgia verso il passato. La nostalgia è una cosa buonissima, lo dico io che ho un po' di anni, quando è dimensionata sulla sua reale dimensione, cioè sul sentimento, non può essere una linea politica. Noi oggi siamo come una minoranza, se vogliamo esistere come minoranza dobbiamo lottare sapendo le condizioni in cui stiamo, sapendo che andiamo controcorrente, rischiando l'andare controcorrente. Anche perché le posizioni interessanti possono venire dai posti più impensati. Su questo dobbiamo, ripeto, uscire, prima che ce lo chiudano, come si dice, la storia, da quello che è il tradizionale campo della sinistra, nel nostro paese come in tutta Europa, che è un campo ormai che è un campo diagramante, dove c'è tutto e il contrario di tutto. Anche io sono stato colpito dal manifesto di oggi o di ieri, adesso non mi ricordo, che ha dovuto prendere anch'esso le distanze dalla scandalosa visita di Tsipras con Netanyahu. Anche perché finché si arriva il memorale, ho sempre pensato, devo dire, ho avuto un momento in cui, come credo tutti noi, ho sperato che, anche se i compagni lo sanno, abbiamo litigato quando eravamo tutti dentro rossa su questo dall'inizio, ma poi, come tutti, quando c'è stato in quel mese il referendum, eccetera, ho pensato a un certo punto quello che, sbagliando, avevo pensato anche su Landini. Siccome Sergio lo sa, pensavo anche su Landini, cioè io Landini lo conoscevo da quando ero io in segreteria nazionale, lui in Emilia, o se, con i compagni lo conoscevo, pensavo che fosse uno sostanzialmente classico di destra burocratica, di storia, della storia della destra burocratica PC Emiliana. Ho sempre pensato che fosse quello, un po' massimalista parole, ma sostanzialmente. Poi è diventato segretario della FIOM e allora ha avuto l'espluati pomigliano e tutto il resto, e ho pensato, sta a vedere che ai segretari della FIOM succede quello che, i preti dicono che succede per i papi, che un cardinale può essere un grande elinquente, però quando diventa papa gli scende sulla testa lo spirito santo, in questo caso lo spirito santo della lotta di classe, e uno cambia, e invece non è vero, non era cambiare. Ma c'è stato un periodo, poi è tornato ad essere quello che era in Emilia, lui è un PD emiliano dissidente, ma è quella storia lì, cioè della storia di Bersani, e quel mondo lì, quello che dà è quello, chi pensa che sia una cosa nuova prende lucciole per l'anterne. Anche su Tsipras ho fatto, quindi mi scuso, quindi voi mi dite adesso cosa dici, sto dicendo tutti gli errori, anche su Tsipras ho fatto lo stesso errore, ho pensato, ma sta a vedere che non all'inizio, su cui avevo lo stesso giudizio che avevo sull'anima, ma dopo, voglio dire, verso marzo-aprile, quando c'è stato il grande movimento, sta a vedere che in questo caso lo spirito santo è il popolo greco, è riuscito a far diventare un personaggio di cui, insomma, secondo me senza arte ne parte, se non una certa capacità mediatica che è quella che rovina oggi, senza arte ne parte a farlo diventare un grande leader. Il Chavez europeo, ecco, no, non lo era, e, devo dire, si è rivelato purtroppo una disgrazia per la sinistra e per il suo popolo e però, voglio dire, ho fatto tutto questo rotto per dire, poi mi ha colpito però il fatto che si è andato anche ad abbracciare Netanyahu. Cioè, questo nel memorandum non c'era scritto, se lo poteva risparmiare. Cioè, ci ha messo del suo, ha fatto una mascalzonata del suo. Ecco, quando c'è questo, vi voglio dire, ma, scusate, io oggi sono stato invitato da un convegno del Movimento 5 Stelle alla Camera. Adesso non vi scandalizzate, vergogna, frequenti brutta gente. Beh, insomma, a me, a molti 5 Stelle li ho conosciuti durante le lotte dell'ottava, devo dire. Altri sono altre cose. Quindi, essendo un movimento populista, c'è dentro di tutto il contrario di tutto, come è evidente. E poi, se qualcuno mi dice che penso che se dovessero andare a governo non ci andranno, ma se dovessero andare a governo fanno meglio di Siriza, dico, no, non faranno meglio di Siriza. Al massimo fanno uguale, ecco, questo non c'ho dubbio. Ma resta il fatto che mi ha colpito oggi perché il Movimento 5 Stelle alla Camera ha organizzato un grosso convegno contro la Nato. Contro la Nato. Apprendo la discussione contro la Nato. E devo dire che si può discutere su alcuni argomenti, anche ingenui, che ci sono stati sollevati, il pacifismo di una... Ma però, il pacifismo, sì, in questo caso il pacifismo, e mi è venuto in mente però che il pacifismo degli anni 2000 non era contro la Nato. Era contro la guerra, per la pace. Non riusciva a dire fuori l'Italia dalla Nato. Non riusciva a dirlo. Eppure a me pare evidente oggi che, come si dice, il minimo sindacale per poter dire che sei contro la guerra è dire fuori dalla Nato. Perché se non dici neanche questo, sei davvero... Cioè, non hai una posizione politica spendibile. Anche perché, come sappiamo, oggi la Nato è in fase di intensificazione di iniziativa. Siamo entrati in una fase in cui io non faccio previsioni, perché tanto sono tutte sbagliate, ma in cui è chiaro che c'è contemporaneamente la crescita dell'imperialismo europeo, ma anche la crisi dell'Europa. E poi c'è il TTP degli Stati Uniti e poi la crisi. E' chiaro che tutti gli strumenti servono a definire gerarchie e poteri. La Nato è in fase espansiva. È lo strumento aggressivo verso il mondo. Allora, qui si pone una questione, la prima questione politica, poi ve ne pongo più telegraficamente altre due. E che io penso che, se si vuole discutere esplicitamente di essere contro, di essere per ricostruire un movimento nelle dimensioni in cui siamo, quindi non un grande movimento di massa che in questo momento riprivati le cose, perché di questo oggi, nell'Italia di oggi, non ci sono le condizioni. Ma un movimento che segni dei passaggi politici, e che prepari una resistenza ai percorsi di guerra che si stanno costruendo e che ci saranno, come la politica di austerità. Possiamo fare tante discussioni. Quando c'è in... Credo che dovremmo aver imparato che questa è una previsione che si può fare. Cioè che quando, dura da 25 anni, quando non c'è niente che ferma un percorso di guerra, di austerità, eccetera, questo si realizza. Sarà la legge di Murphy? Che se una cosa può andare male, mettiamola così. Resta il fatto che questa questione è centrale. Quindi, prima questione, se vogliamo porre, è che bisogna aprire una campagna contro la Nato. bisogna dirlo fuori. L'Italia dalla Nato. Bisogna dirlo. Cioè questa è una posizione politica. Certo, si può anche dire in scioglimento di tutta la Nato. Però questo vale anche per l'Europa. Io trovo davvero un po', diciamo così, non comprensibile da... Ma è un limite mio. Certe discussioni sull'Unione Europea, sull'Euro, sulla Nato, eccetera. Sono il nemico o non sono il nemico? Nostro. Poi, sono convinto che per i siriani hanno altri problemi, c'è anche Assad tra i nemici. Ma in Italia, qual è il nemico che abbiamo? Dov'è? E questo è il punto. Cioè, l'avversario che abbiamo noi, qual è? Il capitalismo mondiale? O è quello che si concretizza qui da noi? Se vogliamo ancora parlare e agire. E io penso che quindi la Nato qui da noi è aprire questo. Poi c'è un'immediatezza. Io penso che noi, siccome sono state fatte le proposte, dobbiamo prepararci. Se ci sarà l'intervento in Libia, senza fare troppo gli schizzinosi, a mobilitarci. Perché sarà di una gravità inaudita. E siccome l'intervento in Libia porterà, prima o poi, perché succederà anche qui, il terrorismo islamico in Italia, dobbiamo prepararci a reggere quello che ci sarà dopo. La sinistra francese si è sciolta, tranne alcuni piccoli compagni. Il PCF ce l'ha nel suo DNA, perché il PCF ha votato a favore della guerra d'Algeria. È sempre stato un partito che su, diciamo così, che su questo terreno ne ha combinate di cotte e di crude. Ma resta il fatto che... E quindi bisogna costruire una mobilitazione e accanto a questo, aggiungo una questione, bisogna costruire una mobilitazione sull'altro grande tema che sta esplodendo. Cioè quello delle servitù militari. A me, a 10 chilometri da casa mia, mi piazzano 20 bombe termonucleari. Allora, a tutti... Cioè, siamo... Voglio dire, siamo contro la TAV perché inquina, giustamente, e però le bombe atomiche fanno bene alla salute. Cioè, non capisco, dobbiamo evidentemente costruire un movimento di una certa radicalità, anche minoritario all'inizio, contro le... Il Muos ha vinto una battaglia. Dobbiamo costruire questo. Questo è un terreno, anche se volete, di articolazione del territorio dell'iniziativa. Terza e ultima questione, ho detto Nato, ho detto interventi militari, Libia, eccetera, eccetera, c'è la grande questione su cui noi un po' scartabelliamo, perché ogni tanto ce ne occupiamo e non capiamo che... La questione migrante, che è la guerra in casa, è quella cosa lì. La questione migrante. ma ci rendiamo conto che la Svezia ha fatto una cosa che Salvini non avrebbe il coraggio di fare oggi. Ci rendiamo conto di questo? Ci rendiamo conto della mostruosità nazista che sta emergendo. Il governo, l'unità nazionale danese decide il saccheggio nei confronti dei poveracci fino a 1.300 euro, cioè 2.000 lo danno allo scavista, allo scafista per quelli che arrivano lì e 1.300 li danno al governo danese. Ma questa Europa è una fogna. Noi dobbiamo essere sentimentalmente con tutta la nostra rabbia e la nostra indignazione contro questa fogna Europa. Fogna Europa. Questa Europa è una fogna di fascismo e le sinistre europee stanno alimentando il fascismo. Questa è la drammaticità della situazione. Quindi, se vogliamo agire, forse siamo più in sintonia se ci comunichiamo i sentimenti, ve la voglio dire così, se ci comunichiamo i sentimenti, perché se noi continuiamo a fare solo discussioni in punta anche di ragionevole di ragionevole di, diciamo così, argomentazione che io condivido in molti casi, cioè sarebbe più giusto, sì, sarebbe più giusto intanto, qui c'è un'urgenza, c'è un'urgenza di costruire una risposta alla drammaticità della situazione che sta precipitando e che è vero, sono completamente accordo su questo passaggio di Luca, cioè noi siamo di fronte al fatto che come sempre quando è avvenuto l'incrocio tra crisi economica e guerra non ha solo un effetto, un intreccio, cioè non ha solo come si dice un ping pong di misure economiche o misure politiche, ha un intreccio sulla mentalità della gente, cioè crea lo spirito di guerra e i migranti servono a questo, l'assedio dei migranti, ma se io caccio via dove li caccio? Cioè io, nessuno ha fatto questo, ma dove li mandano questi 80.000 che rimandano indietro? Dove li mandano? Cioè il passaggio successivo sono i lager, ci rendiamo conto di questo, quindi io sono per drammatizzare, se drammatizziamo secondo me i punti di unità li troviamo, se non li troviamo vuol dire che non siamo d'accordo in realtà sulla drammaticità della situazione. Grazie. Grazie.